Da oggi la Fontana delle Consagre viene restituita alla città. Sì, oggi con grande orgoglio e soddisfazione restituiamo alla città di Mazzara del Vallo la Fontana del nostro illustre concittadino Pietro Consagra. Dopo vent'anni di silenzio finalmente la Fontana ha ripreso a Zantillare. Siamo davvero orgogliosi che il nostro percorso di valorizzazione dell'arte e della cultura Mazzara del Vallo sia iniziata proprio da quest'opera. Una inaugurazione divisa in due momenti? Sì, diciamo che il tempo ci ha in qualche modo costretti a suddividere l'iniziativa in due serate. Una si è svolta sabato scorso con il racconto del restauro dalla voce dei diretti operatori, dai restauratori, dalle ditte Chiraema e Marino che si sono presi cura di questo restauro sia da un punto di vista economico ma anche tecnico. e invece oggi la parte diciamo più coinvolgente perché oggi per la prima volta abbiamo acceso la Fontana e finalmente gli Zantilli hanno ripreso la loro vita.